A presa la notizia della morte del Cardinal Martini, il nostro Arcivescovo ha inviato al Cardinale Angelo Scola, pastore della Chiesa Ambrosiana, un telegramma di cordoglio in cui esprime la profonda partecipazione della Chiesa Bolognese al lutto della Chiesa di Milano e l'assicurazione della preghiera di suffragio. Il Cardinal Caffarra ha definito il porporato pastore buono e sapiente, che ha donato la vita al suo greggio nell'indefessa trasmissione della parola di Dio e nella partecipe e condivisione del cammino dell'uomo. Adesso alcuni aggiornamenti all'annuario del clero diocesano. Lunedì 27 agosto è deceduto Don Silvio Ballotta. Don Silvio aveva 72 anni, da tempo era gravemente ammalato, originario di Anzola Emilia, aveva esercitato il ministero sacerdotale dal 67 al 77 nella parrocchia di San Cristoforo per poi essere trasferito come vice parroco e dall'81 come parroco ai Santi Filippo e Giacomo in centro a Bologna. Per un decennio ha anche ricoperto il compito di vicario pastorale del vicariato di Bologna centro. Il 30 luglio invece è morto Monsignor Aldo Rosati, assistente diocesano dei gruppi di preghiera di padre Pio. Monsignor Rosati aveva 89 anni ed era sacerdote dal 1950. Ha presentato il suo servizio sacerdotale nella cattedrale come sagrista e tabulario e presso la curia diocesana come direttore dell'ufficio diocesano delle pontifici e opere missionarie della Pia Opera dei Tabernacoli. Monsignor Rosati era insegnito di numerose onorificenze, canonico di Santa Maria Maggiore del capitolo metropolitano di cui era decano cappellano di sua santità e priore dell'ordine equestre del santo sepolcro. E ora invece alcuni spostamenti nel ministero sacerdotale. Don Luca Malavolti, attualmente vice parroco a San Paolo di Ravone, è stato nominato coparroco dell'unità pastorale di Castel Maggiore. Andrà ad affiancare Monsignor Pierpaolo Brandani e Don Marco Bonfiglioli. Don Domenico Cambareri ha assunto la cura pastorale della parrocchia di Villanova in luogo di Don Stefano Benuzzi e manterrà la collaborazione con il parroco di Castenaso. Don Lorenzo Pedriali lascia invece la parrocchia di Santa Maria Induno per trasferirsi nel vicariato di Castel San Pietro per il servizio pastorale in alcune comunità della zona di Varignana.